Mi sembra di aver capito che è una gara di scorreggia. Beh, sì, effettivamente, Linda, cara, come tu stessa hai potuto notare, questi scogliattoli affermano la loro supremazia scorreggiando l'uno sull'altro. Certo, chi non lo fa? Eh, lo so. Anche gli esseri umani lo fanno delle volte. A proposito di esseri umani, forse vi interesserà sapere che qui in Cava Farvistan gli esseri umani sono in fondo alla catena alimentare e sono una specie protetta e sono anche, diciamo, un pochino non tanto evoluti, se così possiamo dire. Ma, ma guardate, forse, forse abbiamo una fortuna che non capita a tutti perché gli esseri umani girano soltanto nelle giornate in cui poi ci sarà la luna piena la sera. Ma vediamo, vediamo, mi sembra di vedere dei rarissimi esemplari di esseri umani giacca blu. Vediamo, vediamo, vediamo là in fondo, si nascondono, ma a volte, a volte possono anche venire in contatto con noi. Cioè, sono quelli... Sì, guardate, guardate, sono laggiù. E cosa stanno facendo? In questo momento sono tranquilli, ma non fatevi ingannare assolutamente perché nel momento in cui appaiono così tranquilli è perché sondano il territorio, stanno cercando una preda. Ma non sono in fondo alla catena alimentare? Beh, certo, ma anche loro si nutrono, mi scusi, ma lei è veramente una persona ignorante, si vede che è una giornalista. Ah, uèi! Cioè, comunque noi non siamo neanche giornaliste, eh, siamo state veline. Velina more bionda. Eh, un po' cent'anni fa, però, vabbè. Cioè, vabbè, quindi cosa stanno facendo? Stanno dirigendo verso un posto dove sanno che ci sono delle prede o le cercano a caso? A caso, sempre a caso gli esseri umani, perché sono dei noti cerebro... Ma è terrificante! Ecco lì, guardate, stanno tornando indietro. Tornano verso di noi, forse riusciamo a intercettarli. Ah sì? Davvero? Guardate, guardate, ballonzolano verso di noi. Il ballonzolamento è proprio il termine tecnico per indicare la loro camminata. Guardateli, guardateli, ballonzolano. Però uno non è un giacca blu, o mi sbaglio. È un giacca blu sbiadita. Ah, ok. Possiamo interagire con questi esseri umani? Ah, guarda, non lo so, perché comunque se c'è solo... Solo se una di voi si offre volontaria, perché è veramente molto pericoloso. Molto pericoloso. Allora, vado io, perché a me non me ne frega niente. Molte persone rimane iniziazate dal fatto che un po' più maggiore si è andato ad informare. Ma chi va a vincere ad informarsi, se non ha il meglio... Ah, saluta la sorre. Il mio nome è noto in ogni emisfero conosciuto. Sì, proprio in emisfero. Senti. E non pretendo di sacerla. Gli scugliattoli hanno imparato ad interagire con gli esseri umani. E tant'è vero che ne usano tutte le risorse, perfino le case, è vero? Vero, Linda? Allora andiamo a vedere. Così almeno ci ha spiegato Lucia, per la nostra guardia forestale. Allora, andiamo a vedere. Oh, scravupati! Oh, scravupati! Allora andiamo! Allora andiamo! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sì, veramente no. Allora, voi due che siete... Allora, voi due che siete due famosissimi critici cinematografici, cosa ne pensate dei film dei bidoni gialli? Ma è... cioè... non è che... insomma è che tipo... Non saprei... Non so degli action movie. Sì... Mi hanno detto che questo film è tratto da un romanzo di Tolstoi. Guerre e scoiattoli. Ho scoiattoli e pace, vabbè dai, non mi ricordo, non cambia niente. Se farò il sleeper non lo so, però se mi sarà proposto un personaggio interessante... Io adesso sto facendo un nuovo film dei Godzilla e interpreto una parte di quella che fa i panini, è una parte molto profonda anche se non a lui. Ah, niente. Il mio personaggio è una giornalista che in realtà non è una giornalista, più o meno. Cioè non è molto capace. Però comunque va in missione a vedere la vita degli scoiattoli, che comunque penso che un film del genere sia un bellissimo film, soprattutto per i bambini, molto meglio di quelle cagate tipo Shrek, tipo quelli dei pesci, che non mi ricordo più come si chiama. Perché... Certo. Grazie. No, io pensavo a Nemo, perché non è che ai bambini, cioè tu li fai diventare grandi, li fai riflettere perché Nemo c'è la pinna trofica. Cioè devi fargli riflettere su queste cose tipo gli scoiattoli, la loro vita con l'uomo, che sono cose molto più intelligenti. E infatti, secondo me, per i bambini può essere un bellissimo film per l'educazione dei bambini.